si è appena conclusa la settima edizione del nostro annuale convegno sui sani stili di vita permettetemi di leggere il titolo di questo convegno promozione di sani stili di vita ed evoluzione della salute modelli multidimensionali tra professionisti perché l'ho letto perché non volevo sbagliare perché volevo sottolineare il focus il momento principale l'attenzione principale che abbiamo verso la multidisciplinarietà perché noi siamo profondamente convinti che la tutela della salute della persona del cittadino parta attraverso l'azione sinergica di tutti i professionisti che ruotano intorno alla persona si è parlato di zoologia si è parlato di psicologia si è parlato di oncologia si è parlato di argomenti i più disparati che hanno visto l'intervento di professionisti del settore a tutela della salute e nella convinzione che soltanto quest'azione combinata tutela la salute soprattutto in un momento in cui la sostenibilità del sistema sanitario pubblico viene messa in discussione per motivi di natura economica se creiamo le condizioni affinché la tutela della salute sia anche economicamente compatibile e per questo che io vi invito il prossimo anno a partecipare perché parleremo ancora di questo alla luce di quella che l'evoluzione della società e del sistema sanitario innanzitutto sono felice ringrazio tutti i partecipanti perché per noi organizzatori vedere che questo appuntamento annuale registra un aumento di pubblico di anno in anno ci incoraggia tantissimo ad andare avanti nel nostro lavoro e a cercare di migliorarlo sempre di più come gli altri anni abbiamo sviluppato il convegno sui tre temi fondamentali che sono poi le tre sessioni l'attività fisica lo sviluppo sostenibile e la psicologia e alimentazione sono tre sessioni che rappresentano un po il cardine principale degli stili di vita per questo motivo infatti è un convegno focalizzato sulla prevenzione ma anche sulla importanza della multidisciplinarità per cui sono intervenuti i relatori medici psicologi biologi nutrizionisti odontoiatri addirittura una veterinaria esperta di psicologia degli animali stiamo creando queste competenze trasversali e questi momenti di formazione comune che sono fondamentali per questo tema che purtroppo è ancora troppo orfano l'ordine dei medici chirurghi odontoiatri della provincia abbat è molto grato al dottor domenico meleleo per l'organizzazione per il settimo anno consecutivo di questo convegno sui sani stili di vita sani stili di vita che un momento di formazione non esclusivamente per l'ordine professionale dei medici chirurghi odontoiatri bensì come avete potuto vedere di più figure dell'ambito sanitario che partecipano alla divulgazione dei sani stili di vita i sani stili di vita che ci consentono di prevenire le malattie che si possono presentare non solo esclusivamente nell'età avanzata ma anche nell'età medie quindi allontanare la necessità di cure dalle strutture deputate a fare questo tipo di attività con una formazione che un mantra per l'ordine dei medici quella della formazione continua nei campi della sanità e della cura dei cittadini ovviamente l'ordine dei medici si prefigge di organizzare annualmente questo tipo di incontri tra l'altro abbiamo avuto delle relazioni stupende straordinarie io ricordo con piacere quella sulla paleogenetica faccio ammenda non l'avevo mai ascoltato una relazione di questo livello l'ordine dei medici chirurghi odontoiatri della provincia abbat sta dalla parte del cittadino perché questo tipo di formazione non è solo per i professionisti della salute bensì è al servizio della popolazione sono qui per raccontarvi la mia esperienza in quanto sportiva io pratico canottaggio da quasi otto anni ho iniziato a praticarlo grazie ai miei genitori conciliare lo sport e lo studio è stato difficile perché appunto non tutti i professori se ne rendono conto di quanto sacrificio facciamo noi sportivi ad esempio io mi alleno tutti i giorni compreso sabato e domenica dalle due fino alle cinque quindi inizio a studiare praticamente alle sei tre ore di studio non bastano per tutte le materie in più la domenica io mi alleno la mattina presto quindi sabato non posso andare a dormire a luna se le mie amiche vanno a ballare io rimango a casa se magari le mie amiche vanno al mcdonald io rimango a casa seguo la dieta perché appunto seguire la dieta è importante perché ad esempio nel mio sport ci sono i pesi leggeri quindi bisogna stare dentro un range di peso però alla fine è questione di abitudine se tu hai la passione una persona la passione non pesa questo sacrificio io sono qui per appunto invogliare tutti i ragazzi della mia età a praticare sport perché è la formazione la formazione non soltanto a livello fisico ma anche a livello diciamo morale mentale perché ti invoglia sempre a dare di più e a farcela in qualsiasi momento anche a scuola per me è stato molto importante noi ad oggi sappiamo che la salute non è soltanto più un insieme di patologie dell'individuo ma come l'ha definito l'oms è il complesso del benessere psicofisico dell'individuo all'interno del proprio ambiente ed è nostra responsabilità come professionisti della salute interagire tra le diverse professioni e sono qui infatti presenti i patrocini non soltanto dell'ordine dei medici che ci ha invitato ma anche del nostro ordine come biologi e abbiamo visto anche dell'ordine dei psicologi e dei veterinari perché collaborando insieme possiamo veramente mirare a migliorare la qualità dell'individuo allungare la sopravvivenza e soprattutto garantire una prevenzione primaria delle patologie quindi l'importanza del messaggio che deve passare ai cittadini non fossilizziamoci solamente a curare il segno e il sintomo di malattia ma valutiamo il complesso del benessere da un punto di vista psicologico e dell'ambiente in cui viviamo perché l'ambiente risulterà centrale per permettere di soddisfare i nostri bisogni ma garantirci una buona qualità di vita della generazione attuale e di quella futura tra le strategie di promozione della salute e di corretti stili di vita rientra sicuramente l'attività fisica strutturata ed è strutturata l'avvio dell'educazione al corpo e al movimento si realizza nella scuola sin dalla scuola dell'infanzia prosegue nella scuola primaria e secondaria e sicuramente le esperienze corporeo motorie contribuiscono a tracciare la crescita della persona e stabiliscono una corretta relazione con gli altri e con l'ambiente in cui gli allievi i ragazzi bambini vivono interagiscono l'alfabeto motorio rappresenta il principale alfabeto di cui disponiamo per imparare a muoverci ma anche per muoverci ed imparare di conseguenza rappresenta uno snodo fondamentale per ogni apprendimento la corporeità di ognuno di noi rappresenta uno snodo per gli apprendimenti linguistici per gli apprendimenti non verbali ed ovviamente il gioco rappresenta un nucleo un contenuto essenziale ineludibile purtroppo oggi le abitudini sedentarie dei bambini e dei ragazzi sono di segno opposto qui in conseguenza abbiamo una larga percentuale di ragazzi che non soddisfano le linee guida internazionali dell'oms che prevedono l'attività fisica strutturata almeno per un'ora al giorno e ovviamente è necessario inserire attività fisiche non solo durante la giornata ma anche durante la giornata scolastica in particolar modo oltre l'educazione fisica e sportiva come ad esempio le pause attive come brevi momenti di attività strutturata metodologicamente sostenuta prima dell'ingresso a scuola o anche dopo l'ingresso dopo le giornate scolastica soprattutto per promuovere l'apprendimento motorio e per promuovere l'inclusione socio culturale ci siamo occupati del di trattare l'attività fisica nel periodo della menopausa un periodo certamente complesso articolato per il corpo della donna che va incontro a una serie di modifiche e spesso anche ad una serie di problematiche molte conosceranno dalle mappare di calore all'osteoporosi e così via ma anche alle modifiche di alcuni aspetti di tipo cognitivo quindi anche per quanto riguarda problemi con la memoria bene l'attività fisica dobbiamo sapere che al contrario di un mix di farmaci che possono eventualmente intervenire su questo tipo di processo è in grado di prevenire ciascuno di questi elementi naturalmente il messaggio principale è che l'attività fisica dovrebbe essere svolta quanto prima possibile senza attendere il periodo in cui la menopausa insorge perché quanto prima noi iniziamo a farla tanto più potrà in maniera efficiente efficace e duratura produrre i suoi benefici stili di vita e sostenibilità un binomio indissolubile in un'epoca in cui i cambiamenti climatici le pandemie impazzano diventa fondamentale avere degli stili di vita che siano consone con il benessere della salute degli individui e del pianeta e questo lo possiamo fare ritrovando quello che è il piacere di fare anche delle attività sportive a contatto con la natura correre vicino al mare vivere o fare dell'attività fisica in un bosco ci aiuta a migliorare la salute psicofisica e anche il benessere del pianeta e degli ecosistemi Sono stato chiamato a relazionare su sostenibilità del sistema sanitario nazionale e sull'innovazione cioè in che modo l'innovazione può venire incontro alle sfide del servizio sanitario nazionale sia da un punto di vista delle problematiche relative al finanziamento, da un punto di vista della gestione del personale nei prossimi decenni ma anche come la tecnologia e l'innovazione possono aiutare il personale sanitario a venire incontro ai bisogni dei cittadini e a migliorare il complessivo stato della salute Partendo dall'osservazione dei nostri amici animali andiamo alla ricerca delle motivazioni che spingono noi tutti con uno slancio verso il mondo, conoscere le motivazioni specifiche di ognuno di noi che intendo le varie specie animali ma tra queste naturalmente includiamo anche l'uomo ci aiuta a recuperare un senso di equilibrio nel nostro vivere quotidiano ricordandoci che siamo una specie sociale che abbiamo bisogno di muoverci, di esplorare, di raccogliere ed evitando in questa maniera ogni deriva che invece ci porta soltanto ad essere compulsivi negli acquisti o in altre cose Consapevolezza della nostra animalità quindi non significa un recupero della nostra condizione bestiale ma significa soltanto conoscenza e spinta e slancio verso quello che è un recupero della creatività che poi è quello che ci ha permesso di arrivare dagli nostri albori fino all'uomo del giorno d'oggi Sono stato molto contento di portare a una platea di questo genere un contributo sull'intelligenza artificiale che è probabilmente una delle disruptive technologies cioè una delle tecnologie che rivoluzionerà di più il nostro apporto e approccio alla salute e in particolare anche il rapporto tra medico e paziente In effetti non è mai stato così facile come al giorno d'oggi nel 2024 monitorare ogni singolo aspetto della vita dei nostri pazienti parliamo di qualità del sonno, passi, attività fisica, stato del sistema nervoso e non solo, anche esami diagnostici che vengono interpretati alla luce di un algoritmo fornito e perfezionato dall'intelligenza artificiale con una velocità e una precisione che mai si sarebbe aspettato negli ultimi 3-4 anni Perciò è inequivocabile e inevitabile quanto ciò sarà impattante nella pratica clinica di ognuno di noi Oggi ho avuto l'onore di parlare di nutrizione e menopausa è un argomento abbastanza sentito soprattutto ovviamente tra le donne che intraprendono un percorso di cambiamento Già nella fase di climaterio, quando la fase della fertilità sta per concludersi la donna sente che c'è un cambiamento non solo a livello ormonale ma proprio a livello del proprio corpo Come possiamo fare, non soltanto per prevenire eventuali danni, diciamo, da questi cambiamenti ma soprattutto come viverla al meglio sicuramente sapendo cosa sta succedendo nel nostro corpo Quindi quello di cui ho parlato oggi è stato il trattare i cambiamenti a livello di controllo glicemico che nella donna in menopausa diviene un po' alterato di attenzione e prevenzione verso l'osteoporosi e l'ostopenia che possono essere più accentuate nella donna in fase avanzata o comunque della menopausa e infine ho trattato anche la questione del sostegno epatico questo perché è molto importante a livello nutrizionale avere dei piccoli accorgimenti per poter eventualmente prevenire quelle che sono i cambiamenti anche a livello fisico un eccesso, un accumulo a livello addominale che può essere eventualmente causa di problemi cardiovascolari che possono essere prevenuti non soltanto farmacologicamente ma con un adeguato stile di vita Nell'adeguato stile di vita ovviamente rientra anche la nutrizione quindi fondamentale poter eventualmente ridurre senza eliminare completamente le fonti di carboidrati buoni avere maggiore attenzione sul consumo delle verdure e soprattutto un sostegno epatico per poter avere la conversione degli ormoni rimanenti a dei livelli ottimali per la salute Oggi abbiamo parlato delle pratiche di igiene orale sono delle pratiche assolutamente sottovalutate dall'intera popolazione e abbiamo voluto creare un focus direttamente con la nostra relazione per dare maggiore rilievo a quanto sia importante gestire delle buone pratiche di igiene orale in tutta la nostra vita, quindi da quando si è piccoli, dai primi mesi di vita fino alla vecchiaia è chiaro che per poter far questo abbiamo bisogno sia degli odontoiati che degli igienisti gli odontoiati perché devono sensibilizzare i pazienti affinché capiscono quanto sia importante gestire tali manovre gli igienisti perché devono insegnare loro a trattare nel migliore dei modi tutti i presidi domiciliari che sono necessari affinché il livello di qualità e di quantità delle pratiche sia giusto Come igienista dentale rappresentante della professione oggi sono veramente orgogliosa di portare il nostro contributo perché l'igienista dentale è quella figura professionale che aiuta il paziente ad avere un comportamento diverso a migliorare il suo stile di vita attraverso delle pratiche di igiene orale che devono essere personalizzate oggi abbiamo a disposizione tanti presidi dallo spazzolino, dal filo interdentale, allo scovolino per poter migliorare l'igiene orale soprattutto perché a scuola nessuno ce lo insegna e quindi è importante apprendere queste manovre di igiene orale sin dalla teneretà perché questo ci consente di migliorare il nostro stile di vita e sicuramente avere una migliore salute sistemica Grazie a tutti!